Siamo qui con la dottoressa Laura Berardi. Come parte il percorso dell'organizzazione della nostra provincia di Chieri? Come parte? Il percorso è nato da un'idea mia e del professor Rea all'interno del Dipartimento di Economia, condivisa con Sandra De Tomasis, direttore del CSV e con Armando Di Buonaventura. L'idea è quella di sperimentare con le organizzazioni della provincia di Chieri un percorso di accompagnamento all'uso di strumenti di misurazione del lavoro volontario dal punto di vista economico, integrando questo tipo di misura con informazioni di tipo più squisitamente qualitativo, diciamo, per raccontarne anche il risvolto non economico. Quale differenza ha riscontrato tra le organizzazioni del territorio e quelle dell'America? Allora, già l'approccio che abbiamo registrato questa mattina è completamente diverso, perché le organizzazioni americane sono per certi versi molto più strutturate, di più grandi dimensioni, con un atteggiamento rispetto per esempio alla raccolta fondi quasi più vicina alle imprese che alle organizzazioni non profit e quindi anche di conseguenza l'attività di misurazione, di rendicontazione è molto più articolata e molto più certosina per ovvie ragioni. Le organizzazioni di volontariato italiane sono un tesoro che noi vantiamo in tutto il mondo, piccole organizzazioni con un approccio forse meno quantitativo rispetto a quello che ho riscontrato invece in quelle americane, dove prima di tutto viene l'importanza dello spirito che anima i volontari, prima ancora del conteggio della quantità di ore di lavoro prestato volontariamente e di una valorizzazione economica. Oggi per esempio una volontaria ci ha detto che non è propriamente corretto parlare di lavoro quando si parla di volontariato, questo tipo di considerazione in un'organizzazione non profit americana non mi è stata per esempio fatta. Va bene, grazie. L'ho fatto.